Ad aprire a grande sorpresa la sfilata di Dolce Gabbana per la Milano Fashion Week non sono le modelle. Bensì, dei droni. Otto droni che trasportano le nuove borsette della Maison Italiana arrivano in passerella dalla cripta della chiesa. Fashion devotion il tema ha portato in scena. Una collezione tra il sacro e il profano, putti, angeli, madonna e croci, ma non solo. Non mancano peluche, cappe in stile zebra e le scritte grandi protagoniste. Fashion sinner, fashion eden, santa moda. Una sola regola da rispettare sulla passerella di Dolce Gabbana, non prendere troppo le cose sul serio.